Donne inglesi e americane vendono il latte materno sul web. Le prime al prezzo di una sterlina, circa 1,20 euro per 30 grammi. Le seconde, la stessa quantità, la fanno pagare 2 dollari, 1,50 euro. Le donatrici utilizzano i forum e le comunità virtuali come Facebook per cercare possibili clienti. L'acquisto di latte materno sul web, descritto dalla stampa inglese, è una forte tentazione, soprattutto per i genitori meno fortunati rispetto a chi ne ha in abbondanza, perché questa sostanza fornisce ai bambini una migliore protezione contro le malattie e le allergie rispetto ai più costosi prodotti artificiali. Ma i pediatri inglesi lanciano l'allarme sui rischi di questa pratica. Le donatrici possono prendere farmaci, droghe o avere malattie infettive come l'ADS o l'epatite e chi acquista non lo sa. Ma per le mamme che non possono allattare, ricordano i pediatri, è meglio rivolgersi alle banche ufficiali del latte materno, più sicure rispetto all'acquisto online.